hai visto l'intervista di yuric purtroppo purtroppo l'ho letta e imbarazzante lui vive in un mondo fantastico parla addirittura del paradiso l'ha visto solo lui il paradiso roma non è paradiso però almeno non ci hanno fatto pure un po tenere inizio è una cosa che la cosa che mi ha impressionato e quando ha detto che i freddy king mi sente per il messaggio ma veramente è stata dall'inizio alla fine anche quando lui parla del napoli dicendo che è stata fatta una grande ha fatto una grande impresa col torino che ha fatto gli stessi punti del napoli si ho capito e ma poi erano vent'anni 15 anni che faceva una stagione così pessima e si è esaltato per questa storia parlato dei pellegrini come se fosse addirittura si muove da dio credo che inopportuno ha parlato del paradiso è veramente io spero che presto se ne vada che ce l'avevano dato avanti yuric e lo spero con tutto il cuore ma non era massimo supporto eccetera tutti no liberate c'è libera almeno che quanto mi riguarda ribella del yuric che non è un allenatore e non sa neanche fa neanche parlate calcio quindi porto per indifferentemente per ma il supporto se da se c'è una speranza se c'è una speranza di crescita qui a speranza di crescita non ce n'è ma perché 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 signori van yuric deve raccontare deve fare un atto perché deve fare di uric io voglio un allenatore che viene in campo io me lo immaginavo un iurice che veniva ad allenare la roma o in panchina la roma corpigiava sotto alla tuta ok mi aspettavo questo atteggiamento un atteggiamento alla iuric che prendeva tutti i calciatori li metteva al muro e li metteva davanti alle loro responsabilità questo non è successo ma ma adesso gli sta leccando completamente il culo ai calciatori dicendo dio addirittura per le grine è diventato dio questo non è la stessa cosa scusa ti faccio dire però si faceva la stessa cosa perché quando è arrivato morigno criticava i calciatori arriva dei rossi e dice io ho dei calciatori forti quindi mi pare che ha leccato il culo anche lui ai calciatori o sbaglio dire dire che calciatori forti sono d'accordo con te che può essere per motivarli parlare di dio si muove da dio e parlare addirittura che lui ricostruirà di bala noi o lo farà più infortunato infortunare credo che sia non ha usato troppo in questo e vai a leggerlo ha detto che adesso sta lavorando per non farlo più infortunare il problema di bala non sono gli infortuni ma la questione di testa quindi non credo che lui abbia la soluzione in tasca iuric e doveva fare iuric è venuto a roma e se si è messa a pecora davanti ai calciatori massi bananera situazione faccio cioè lui quando entra con centro di allenamento ma non è colpa sua infatti ma non è colpa sua la colpa sono il problema è chi l'ha messo lì è esatto il problema se sono sono i fredkin il problema sono i fredkin quello che lui dice davanti le telecamere è quello che lui dice uno spogliatoio davanti le telecamere un po' un calciatore io me ne ricordo pochi che l'hanno fatto magari dentro lui ci va duro detto questo i risultati in campionato di uric non mi sembrano no vero tutt'altro io ma no lascia perdere rossi questo discorso fra perché non è che possiamo prendere dei rossi dei rossi non gli è stato permesso di lavorare punto a dei rossi non è stato la possibilità di lavorare perché c'era un dirigente che che gli ha messo è così ma perché quello che sta facendo c'è quello che c'è oggi in casa a roma permette gli urici di lavorare che si parlano da due settimane che è già pronto dei rossi che deve tornare c'è questo è un modo per poter lavorare in maniera no no in ogni squadra di calcio in ogni squadra in ogni squadra e la fiorentina se ti fa in attimo mente locale vedrai che avrà le tue risposte c'è un presidente c'è un direttore c'è un dirigente che affianca il direttore alla roma non c'è niente una scatola è una scatola completamente ruota è inopportuno è inopportuno nel senso che o metti una grande figura e gli metti in mano tutta la roma ok perciò fa da dirigente fa tutto il cui non può essere iurice che non ha mai allenato in europa non è un allenatore è un allenatore che può far crotone può far torino dicendo di questo ho una paura che se questi risultati questo gioco e queste dichiarazioni le avesse fatte dei rossi dei rossi core dei roma e ha fatto iurice sia un pezzo di merda questo beh beh potrebbe anche essere vero quello che dici ma è giusto che sia così daniele de rossi daniele de rossi è un allenato era un allenatore che giovanissimo e soprattutto era uno che conosceva la piazza uno che roma gli deve ancora chiedere qualcosa perché comunque sia è un capitano è uno che ci ha rappresentato e io se devo dare una possibilità in più lato a dei rossi in modo a iurice con tutto il rispetto per iurice 6 ebbè ma ci sta che non sia romantico ragazzi io capisco a capisco massi perché secondo me sarebbe flavio come per voi interisti se l'avesse fatto zanetti come per voi interisti vabbè per ridere dai se zanetti si fosse immolato o un'altra bandiera dell'inter ragazzi ci sta allora ma se ti dico che dovresti fare la stessa cosa secondo me per murino con murino tante volte siete un po troppo cattivi e che invece ha fatto la stessa murino allora andrea andrea io ti dico solo una cosa con murino le aspettative erano talmente alto e alte che poi la critica è feroce arriva non dice proprio che va ridimensionata la piazza della piazza per l'arrivo di giro su murino adesso bisogna riscrivere un po la storia perché quello che al di là del fatto che tecnicamente abbiamo capito non essere un allenatore aggiornato ecco aveva le sue pecche però abbiamo capito negli ultimo quant'è quasi anno otto mesi che lui faceva non solo l'allenatore cioè lui sopperiva tutte quelle che avevano quello che ha fatto dei rossi strutturali ha fatto pure in maniera diversa quindi un allenatore che deve va oltre allenatore anche il direttore sportivo il presidente era detta gli arbitri ha detto stampa e chi più in acchiene non è così non è così non è così i primi due anni i fredkin stavano qui a roma vivevano qua a roma erano presenti all'allenamenti e alle partite erano sempre presenti al contrario di quello che è successo adesso sia con dei rossi che non ci sono ma non si va bene ma non è che devono per forza parlare per erano presenti comunque si erano presenti e con gli arbitri parlavano a quando andavano in televisione c'era lui quando parlavano di calciomercato di giocatori chiamava lui tutto l'allenatore ma perché sono d'accordo con te ma è chiaro che poi lui tecnicamente non era al massimo della vita abbiamo capito e però ragazzi la società non va avanti se non se non ci stanno tutti i ruoli ben definiti non va proprio avanti quindi io mi aspetto una vittoria con l'inter per forza se no via subito e stai dando ragione a me quando racconto come la piazza romana è una piazza completamente allo sbando a livello di ambiente cioè questo non è e io so che se tu parli così vuol dire che tu rappresenti una grossa no no io non rappresento nessuno io non rappresento nessuno perché per loro la sua scuola la carisco perché sono mi insultano in 200 mila sto dicendo che se tu parli così non ti dispiace c'è tanta gente che la pensa come te non che tu rappresenti che diverso io io credo che è una fotografia molto preoccupante dell'ambiente roma e quando io racconto la grande roma è tossico c'è questo non è un ragionamento di chi vuol bene alla squadra allenatore all'ambiente massi scusa ma io vorrei semplicemente vedere la mia roma con un progetto e questo progetto non gli è stato dato ma progetto guardiola ma con questa società non fate in niente grau grande fischio sì però c'era stai lumi però se c'è però tra guardiola iurici c'è sta c'è stato abisso quindi magari magari c'è una speranza di più con allenatore con un altro tipo allenatore questo non è l'allenatore per la roma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti